Settima corsa, due nastri, calli che vanno in partenza sembra subito buono il primo segnale, quindi prova, no, 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 viene richiamato no, è buono, è buono, è buono, allora è stato convalidato il segnale si porta al comando Poiton di Olimpia che precede Olin Almar quindi il numero 6 Nadal VF a seguire Onice Font partito bene dal secondo naso che precede Riccore al 400 in 30 e mezzo dopo i 100 iniziali, ora si fa vedere Olin Almar che prova a puntare in avanti per rilevare il comando, c'è il via libera da parte di Poiton di Olimpia e Olin Almar è il nuovo leader dopo 600 metri sempre a precedere il numero 6 Nadal VF mentre ha spostato dalla corda Onice Font 800 di gara che stanno per essere percorsi dal leader a media di 1.1.8.16 di frazione con sempre al comando punto Olin Almar, mentre treno esterno in corsa che vede Onice Font con in schiena Overwise S il chilometro va via in 1.1.8.4 con Olin Almar sempre al comando quando siamo adesso sulla piegata di destra, gruppo disposto in pariglia in datura ancora piuttosto blanda, spalla indietro il leader frazione in 17 quando siamo adesso sulla dritta di fronte Onice Font che si avvicina alla leader sempre in schiena Overwise S terza pariglia per Nukov Cloudlet la quarta per Pietro Il Grande e siamo così ai 600 conclusivi con Overwise S che si scopre in terza corsia in anticipo su Nukov Cloudlet anche Onice Font che va deciso su Olin Almar quando siamo sulla piegata con Onice Font che attacca a fondo sospinta anche da Overwise S all'apice della piegata addirittura ad arrivo Onice Font, Overwise con di dentro Olin Almar Onice e Overwise che passano e sembrano giocarsi la vittoria passa Overwise S su Onice Font che ora deve provare a contenere anche il ritorno di Nukov Cloudlet Overwise S che è passato e viene a concludere nei confronti di Onice Font mentre per il terzo è probabilmente all'interno la Dallo più WF ma dobbiamo vedere il replay la vittoria comunque per Overwise S con Daniele Cuglini che ottiene subito un altro bel successo dopo quelle scorse edizioni vince bene Daniele Cuglini con Overwise S al secondo posto ancora positiva Onice Font per il terzo per linee interne potrebbe essere e... ... ... ... ... ... ... Grazie a tutti